Con Danilo Morra, il presidente del Movimento Libertà e Democrazia, per presentare un primo importante appuntamento del Movimento. Sì, allora domenica alle ore 18 presso il ristorante Terra Madre all'Acquameno presenteremo il nostro progetto, il nostro programma elettorale che si chiamerà Tu al Centro. E sarà qualcosa di assolutamente nuovo e innovativo perché ribalterà un po' la canonicità, la tradizionalità della classica campagna elettorale. Dove per la prima volta il cittadino non sarà più soltanto uno spettatore passivo ma un attore protagonista. Quindi tutto parte dal cittadino, il cittadino per la prima volta anziché ascoltare le solite promesse e campagne elettorali sarà lui a proporre novità, esigenze. E non sarà più il politico a dire io cosa posso darti ma il cittadino a dire io ho bisogno di questo. Quindi andremo un attimino a ribaltare quello che è la solita e classica campagna elettorale fatta di parole dove probabilmente dovremmo cominciare ad ascoltare quali sono le reali esigenze del cittadino. C'è grande attesa perché si avvicina questo primo appuntamento elettorale che sarà un modo anche per il Movimento di testarsi. Sì, testarci, metterci alla prova ma soprattutto testare un po' se i tempi sono maturi per un cambio di mentalità perché il problema è la mentalità. Noi proporremo tante soluzioni e sicuramente saremo protagonisti e stupiremo un po' la popolazione e inzieremo quello che sarà un cambiamento radicale nella cultura ischitana. Un cambiamento che però sapete benissimo non essere del tutto facile, specie in un territorio come quello isolano. Ma noi siamo consapevoli di questo ma la sfida non ci spaventa. Noi lottiamo per qualcosa in cui crediamo fortemente, quindi per noi già tentare di fare quello che tanti dicono che si deve fare ma che nessuno ha il coraggio di fare è già una vittoria. E quindi poi pian pianino riusciremo a far capire chi siamo, cosa vogliamo, quali sono i nostri reali scopi, quindi qual è la nostra reale intenzione e pian pianino la gente inizierà a seguirci.